Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori. Tremenda notizia dell'ultima ora. Segnaliamo un altro incredibile e inaspettato lutto nel mondo del calcio dopo la scomparsa di Sinisa Mialovic e Gianluca Vialli. Un altro lutto colpisce il mondo del pallone nella fattispecie. La squadra del Milan, a soli 48 anni, è scomparso l'ex centrocampista e tecnico dell'Accademy Rossonera in Kuwait. Patrizio Biglio aveva 48 anni. Patrizio Biglio è stato colpito da un malore mentre giocava a padel a darne il triste annuncio. È stata poco fa la società del Milan sui social network. Patrizio aveva un fisico straordinario e questo è possibile anche constatarlo dalle foto. Era in ottima salute ma purtroppo la vita è imprevedibile. Ci lascia. Ha 48 anni a seguito di un malore. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video.